Il corso di formazione, il curriculum verticale per un progetto formativo uniforme dai 13 a 9 anni affronta il problema della continuità scolastica, un problema da anni dibattuto a livello nazionale ma ancora non risolto, nonostante il passaggio da un ordine a un altro di studi sia causa di disagio, di ripetenze e di abbandono scolastico. In questo corso di formazione diremo quali sono i rischi della mancanza di dialogo tra i due cicli di istruzione e quale difficoltà gli alunni devono affrontare negli anni ponte. Parleremo ancora dei problemi più frequenti che presentano gli studenti nel passaggio da un grado scolare ad un altro e come le linee guida ministeriali per l'orientamento possono aiutarci a rafforzare il raccordo tra il primo e il secondo ciclo di istruzione. Diremo ancora come le certificazioni ministeriali delle competenze e il PECUP dello studente possano esserci di aiuto.